allora bonatti è una partita difficile stasera come si mette come si mette qui che siamo per la prima volta numericamente siamo a posto troppi adesso troppi allora vediamo un attimo volpi allora questa è una partita come va risolta va risolta facendo a modo i cambi e giocando bene sulle fasce che per ora inizialmente ci sta la fasce mostarda sui ritmi voi siete 7 8 quindi dovresti potreste alzare anche un pochino i ritmi o no si dobbiamo giocare solo più sulle esterne bisogna correre tutti e quando c'è da difendere rientrare perfetto in bocca al lupo